in diretta dal mio camerino camper ho sonno fa caldo ho sonno fa caldo ho sonno fa caldo ho sonno quando per la prima volta nella tua vita vedi delle telecamere bella raga sto tornando da torino è stato veramente divertente mi dispiace non aver potuto fare foto con voi ma per questione di sicurezza me l'hanno impedito mi hanno fatto sparire dopo un secondo ma mi sono divertito un sacco grazie mille per essere venuti ciao ragazzi sono sempre andato allo zoo ma non sono mai andato dall'altro lato della gabbia è una cosa straordinaria guardate lei come contenta di vedermi ok ciao ciao ciao